L'estate si avvicina e ancora prima le festività pasquali, il 25 aprile e il 1 maggio, occasioni in cui Fano e soprattutto la zona del Lido diventano un punto di ritrovo e di passaggio. Il Lido per le traverse vicende del ponticello dell'Arzilla che ha alzato i toni della dialettica tra amministratori e operatori commerciali è stato il perno della discordia. Per certe scadenze chi vive di turismo e accoglienza vorrebbe che i punti sensibili della città fossero tirati a lucido e presentati nel migliore dei modi e dove ognuno è giusto che faccia la sua parte. A questo proposito altre segnalazioni ci stanno arrivando in redazione su criticità e magagne di uno dei salotti buoni della città e il centro della movida affanese. La prima riguarda la cavea, questo piccolo anfiteatro mal sfruttato e inutilizzato, luogo un tempo dove si allestiva una piccola ma ben riuscita rassegna musicale dedicata ai gruppi rock giovanili emergenti ma che ora serve solo ai bambini per scorazzare con le biciclette o agli skaters per le loro evoluzioni, che però non gode nelle strutture in cemento di ottima salute. Qui incombe un pericolo proprio per i più piccoli. Dopo la ristrutturazione della struttura aerea in legno, ora sono le parti in muratura a mostrare i segni del tempo e il loro ammaloramento sul lato del mare. Un lastrone di diversi chili della copertura laterale della struttura si è staccato e semplicemente appoggiato come anche la copertura superiore, rappresentando così un serio pericolo per l'altrui incolumità. Se urtato e sbilanciato, potrebbe cadere addosso con le conseguenze che tutti possiamo immaginare. Oltre alla sicurezza di questo luogo, sempre a Lido il caratteristico totem, formato da mosaici, non versa in condizioni migliori. Certo bisogna alzare lo sguardo al cielo per rendersene conto, ma sono diverse le parti in cemento esposte, alcune molto ampie e profonde, e da dove si possono scorgere anche i tondini in ferro, che certo l'artista non voleva mostrare. Oltre al lato estetico, certamente non dei migliori della struttura, ciò che lamentano i frequentatori del posto è anche la sicurezza. Anche piccole parti in cemento che dovessero staccarsi e precipitare da quell'altezza, e dovessero cadere sulle persone o sui bambini che spesso giocano in questo luogo, un gran che bene non dovrebbero fare. Meglio quindi correre ai ripari e aggiustare questi piccoli nei di uno dei luoghi più belli di Fano.